nevi oi che si va a pesca a lettera lettera ma si pigliano ci si prova il posto è bello il posto paga c'è la zona c'è il mare c'è pruni vediamo di non graffiare un altro murinello spascialo sugli scori un altro murinello spascialo sugli scori ragazzi cavi di nuovo in cattura con un bar si può dire come le veste le gente gli punta mettilo qui bello bello questo ragazzi terzo bar della mattina anche sorpresa a buio tre io e tre tevi devi incubare un salago si rilascia vanno via con le bombe come lo prendo? ragazzi guardate che pesce ha fatto devi c'era un ibarra mentre si incediamano ibarra è uscito un salago non so un kilo e due una patella bello saragone sui geni bellissimo ora si fa una foto e si ributta si ma la zamalia è molto lunga la volta rispetto al normale vedi la fa una mucca grande devi è una canna alta sennò forse frega gli scoi è un'altra ancora ancora in piombo? non c'era il barrozzo un barrozzo un barrozzo un barrozzo un barrozzo un barrozzo un barrozzo è bello è quello che è il mio ragazzi barrozzo non è enorme ma Cos'è nero? Andiamo a riportare Perché se ne va Vediamo se se ne va altri Anche se sta per arrivare l'albeggio Non ci si lamenta stamattina Degrata proprio gli scogli Eccolo, no Maremma puttana Madonna e fiammama ha tirato La tiravo qui sotto Ma è già vicinissimo Guarda che cazzo Ho fatto anche il giro Guarda Guarda Questo è più piccolino Il primo lo acciccao E questo è arrivato E' incredibile come tirano ragazzi E' incredibile Su un barracuda Tiro in un muro Quasi slavavano Questo è più piccolo Questo è più piccolo Però è arrivato Quasi Cutiamolo subito il tempo Esatto Buongiorno dai dai, lo bello è che sei rindovinato lo spot il primo giorno, basta ritornare, perché non era neanche andato male il primo giorno, ragazzi pescata finita ultimo giorno, questo sarà l'ultimo video che vedrete, è andato stra bene, purtroppo il mare si è gonfiato quasi subito e non siamo riusciti, alle 10 siamo venuti via, quindi non siamo riusciti a pescare veramente, e va a aumentare, però alla fine si è fatto diversi pesci belli, alcuni non registrai perché era buio barro la notte, tanto bene era un video di merda, si è fatto però ottimo ottimo risultato, quattro io e quattro devi, va per essere l'ultima pesca bene così, di fungo e sarco, vi lascio con questo video muccoso grazie a tutti Grazie a tutti.